Salve ragazzuoli, oggi vi racconto Aquanauts Holiday per Playstation. Che cos'è Aquanauts Holiday? La verità è che non lo so, non l'ho mai capito molto bene. È un gioco che è uscito nel 1995 in Giappone e l'anno successivo poi è stato distribuito in Europa e in Nord America. È stato sviluppato da Artink ed è stato distribuito in Giappone da Artink e nel resto del mondo da Sony Computer Entertainment. Non è un vero e proprio gioco, è una specie di passatempo rilassante, qualcosa di questo genere. Un gioco di esplorazione sottomarina in cui dobbiamo andare in giro con il nostro sottomarino per cercare di esplorare il più possibile il fondo del mare, trovare nuove specie di pesci, interagirci in qualche modo e costruire una sorta di barriera corallina. Il gioco non ha nessun limite di tempo, non è possibile morire, non c'è un obiettivo specifico. L'intento dichiarato degli sviluppatori è quello di creare una sorta di passatempo. Io questo gioco non lo classifico come in cauto acquisto perché ricordo che all'epoca, se non vado errato, l'ho presi usato a poco prezzo, ci giocai qualche giorno e poi lo restituì perché poi mi resi conto che in realtà non era un gioco vero e proprio, è più appunto, come ho detto, una sorta di passatempo che nelle intenzioni dei programmatori doveva essere rilassante e mi ricordo che a me invece angosciava particolarmente. Andiamo un attimo a vedere com'è, se mi ricordo un po' com'era. Stereo, ok, perfetto. Ok, noi siamo, questa è in prima persona, questo è il fondo del mare, questa è la nostra base di partenza e noi sostanzialmente dobbiamo andare in giro a esplorare il fondo del mare, trovare pesci, animali sottomarini, cose, cetacei, cose di questo genere, se siamo fortunati possiamo anche trovare delle rovine sottomarine, cose di questo genere. Non è che c'è un vero e proprio obiettivo, è solo andare in giro a esplorare. Con questo si dà gas, con questo si rallenta e poi si può andare all'indietro volendo. Ok, con questo si sale di quota, con questo si scende e con questo si sale. Non va da raro, esattamente. Ok, perfetto. In alto al centro c'è la bussola, un indicatore che ci dice se stiamo salendo o se stiamo scendendo, una specie di orizzonte artificiale, insomma sostanzialmente il gioco è tutto qui. La grafica, come vedete, è abbastanza buona per essere insomma un gioco della Playstation 1. Non è niente di eccezionale, dato che non c'è un vero e proprio obiettivo nel gioco, non è che si potevano sprecare un pochino, secondo me, con la grafica e inserire qualche elemento in più, ma tant'è. Un'altra cosa che si può fare quando incontreremo dei pesci o delle creature sottomarine è quello di interagirci. Premendo i tasti L1, L2, R1, R2 si possono emettere dei segnali sonar, così. Usando questi segnali in determinate combinazioni o creando delle sequenze di suoni, si può interagire con i diversi animali e diversi animali reagiranno in maniera diversa alle diverse sequenze di suoni. Non ho capito, non mi è ben chiaro qual è l'utilità di interagire con i pesci. Credo che sia semplicemente una sorta di passatempo, anche questo. Ecco qui, per esempio, vediamo che ci sono dei pesciotti. Allora, adesso, se io mi avvicino a questo pesciolotto qua... No, questa è una seppia. Ecco, premendo questo tasto, vedete che si avvicina. Premendo quest'altro, non fa niente. Con questo se ne va. Ok, proviamo a raggiungerla di nuovo. Con questo si avvicina. Con questo, ecco, premendo durante gli facciamo fare una pirouette. Questo non fa niente. E quindi, ecco, possiamo far fare agli animali questa cosa, queste cose. E naturalmente ogni pesce, ogni animale che incontriamo ha delle sequenze diverse di rumori di sonora a cui reagisce. Proviamo a mettere a girci su questo pesce qua, se lo ritrovo. Mi sono andato a sbattere contro. Sai che me lo so perso. Quindi, come vedete, insomma... Ecco, questo lo fa fermare. Questo lo fa andare via un po' come le seppie. Vabbè. Come dicevo, non so bene che utilità abbia questa cosa, se non appunto quella di magari provare a interagire con i vari animali per provare a vedere... di fargli fare cose diverse, ma insomma, alla fine, quello che faranno saranno sempre questi giretti strani. Proviamo a vedere questo pesce qua. Ecco. Così l'ho fatto scappà. Proviamo con quest'altro che è uguale. Andiamo avvicinando un po' di più. Ecco, così fa il morto. O l'ho ucciso? No, l'ho ucciso? Questa che l'ho ucciso. Ok. No, ha fatto il morto. E se n'è andato. Vabbè. Come vedete qui c'è un tonno. Insomma, ci sono vari nipi di animali. Si possono trovare anche balene. Si possono trovare anche polipi. Insomma, vari nipi di animali. Ma, insomma, sostanzialmente il gioco è tutto qua. Bisogna andare in giro, esplorare. Trovare nuove specie di pesci. Ma è tutto quanto, come dire, una sorta di grosso demo. Ecco, non c'è un obiettivo vero e proprio. L'unico obiettivo dichiarato del gioco. Vedete qui ci stanno altri pescioloni. Questo che è? Pesci normalissimi. Se ci andiamo a sbattere, semplicemente li rispingiamo. E quindi, come vedete, insomma, il gioco in sé è abbastanza... Come dire... Elementare. Sì, è abbastanza carino a vedersi. Ma, insomma, niente di che, insomma. L'unica cosa interessante veramente da fare è quella di esplorare il fondale marino per cercare di trovare cose strane e inusuali. Perché effettivamente degli oggetti strani nel gioco si possono trovare resti di civiltà sommersi, che ne so, piramidi, sculture, cose di questo genere, navi affondate, cose così. Però in realtà non hanno un'utilità vera e propria nel gioco. Adesso andiamo a dare un attimo... Adesso ci fermiamo un attimo. Andiamo a dare un attimo un'occhiata al menu. Allora, con Select si può scegliere se questo qui Return serve per andare al menu del gioco e questo serve per rilasciare una boa. Possiamo lasciare fino a 256 boe nel gioco che servono sostanzialmente come dei waypoint. In qualsiasi momento potremo ritornare automaticamente alla posizione di una delle boe se magari abbiamo trovato una cosa che ci interessa e vogliamo ritornarci rapidamente. Se invece andiamo a Return, quello che facciamo è ritornare alla base e possiamo accedere a questo menu. Allora, Leafport serve per ripartire, insomma, dal punto di partenza, dalla nostra base e poi qui c'è Build Reef che serve per costruire questa barriera corallina. Allora, vedete che noi qui abbiamo tante varie posizioni in cui possiamo mettere dei blocchi. Possiamo scegliere l'altezza a cui metterli però dovremmo anche essere in grado di scegliere il colore se non vado errato. Come se scegli il colore? Dovrei essere in grado di scegliere il colore. Qui posso scegliere l'altezza. Come se scegliere il colore? Guarda che c'era... Ah, ecco, così. E con quest'altro tasto dovrei poter mettere l'altro colore. Ok, il manuale del gioco non dà una spiegazione ben precisa di come si debba costruire la barriera corallina. Che non me lo fai costruire qua? Ok. Ok. Dice semplicemente di essere creativi, di dare sfogo alla propria fantasia e di usare colori diversi perché diversi tipi di pesce sono attratti da colori diversi. Adesso ho finito i blocchi che ho a disposizione e quell'indicatore in basso mi dovrebbe dire più o meno quanti pesci sono riuscito ad attirare. E mano a mano che noi attiriamo più pesci nella nostra barriera corallina possiamo accumulare nuovi blocchi e quindi espanderla sempre di più. Alla fine, vediamo un attimo poi, se riesce ad attirare tipo 120 tipi di pesci diversi ecco questa è la mappa che abbiamo esplorato questo è il nostro punto di partenza, la base qui è dove siamo arrivati e lì è dove ho messo la mia boa a cui possiamo riandare jump possiamo saltare e ritornare alla boa dicevo se uno riesce a recuperare tutti quanti i 120 tipi di specie di pesci differenti sostanzialmente viene ricompensato con una modalità speciale che ti permette di giocare il gioco quindi esplorare il fondo marino però con ah ma c'è una murena una specie di murena andiamo a parlarci non reagisce niente si volta verso di me no se ne va dicevo vi si viene ricompensati con una modalità del gioco che ci permette di esplorare il fondale marino però interpretando insomma con uno skinner che ricorda i pesci che abbiamo uno dei pesci che abbiamo attirato alla nostra barriera corallina e quindi insomma andare in giro come come balena o come che ne so come una seppia tutto qua insomma non c'è granché l'area di gioco è effettivamente piuttosto vasta ci sono dei tunnel ci sono come vi dicevo delle rovine ci sono degli oggetti strani che si possono trovare e questo è uno dei diciamo dei motivi per cui uno dovrebbe essere spinto ad esplorare il fondo del mare mi pare che si possono trovare anche dei dischi volanti cose di questo genere adesso non ricordo di preciso cioè avevo giocato un po' all'epoca ed ero riuscito a trovare un po' di cose però dopo un po' ti stufi perché effettivamente come vedete non è che c'è un obiettivo vero e proprio non è nemmeno possibile come dire osservare una mappa in tempo reale che quindi ti spiega dove stai andando è semplicemente così a caso ah ecco ci sta una tartaruga marina ok così la tiriamo verso di noi che fa? dobbiamo salire un po' se me devo avvicinare un altro po' così la faccio andare via ok così la faccio girare su se stessa e sostanzialmente niente è tutto qua qui che c'è sta un'altra tartaruga marina come vi dicevo il gioco dovrebbe essere rilassante però a me in realtà anche se so che non c'è niente che ci possa far male non c'è la possibilità di morire ecco questo è un oggetto strano che abbiamo trovato vedete c'è questa roccia gigantesca che è in in equilibrio su questi sassetti piccolissimi io sapete vi dico mollo una boa proprio qua così potrò ritornarci in qualsiasi momento però ecco dicevo a me in realtà questo gioco dà una sensazione un po' di oppressione e di angoscia come se da un momento all'altro potreste saltar fuori qualche mostraccio schifoso qui che c'è? granchio? una specie di granchio ebbè andiamo a parlacce non risponde non fa niente vabbè c'era acqua per terra una stella marina ok continuando con l'esplorazione come vi dicevo si possono trovare animali strani e diversi si possono trovare che ne so balene forse anche foge non lo so le foge non le ho mai viste sicuramente ci stanno le balene e per approcciarsi diciamo ai vari ai vari animali bisogna avere anche dei comportamenti leggermente diversi per esempio le balene si spaventano se ci avviciniamo molto rapidamente a loro quindi bisogna avvicinarsi lentamente e provare a fare qualcuno di questi di questi segnali sonar qualche sequenza per cercare di entrarci in comunicazione e alla fine fargli fare un'animazione insomma niente niente di più sonoro è quasi del tutto assente ma secondo me serve a creare un pochino anche l'atmosfera di questa di questa esplorazione marina la grafica insomma ok sempre sempre playstation 1 però ripeto dato che in fondo insomma nel gioco non è che succede granché in realtà non succede niente forse avrebbero potuto sprecarsi un pochino di più nel nel realizzare nel realizzare gli ambienti marini insomma farli un pochino più dettagliati un pochino più vari certo diciamo in questo modo la noia prende il sopravvento e quindi quando che è questo delfino 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 ecco avviciniamoci lentamente la noia dicevo prende rapidamente il sopravvento e quindi se vediamo qualche cosa l'emozione è grande perché in realtà di solito non siete mai mai niente andiamo ad avvicinarci piano piano però vedete che tende a scappare vediamo se riusciamo ad accostarci un po' a ecco di dolphin se ne sta ma ecco un altro eccolo qua che ci gira intorno ecco ha fatto fa un giro ok sono riuscito ad entrare in comunicazione con un delfino ok non so bene a che cosa serve ma è carino e sostanzialmente questo è più o meno il massimo che questo gioco possa se lo vogliamo chiamare gioco che questo programma possa offrire ecco più o meno più o meno è tutto qua questo gioco in occidente non è stato molto popolare per i motivi che tutti quanti potete ben immaginare ma in giappone ha avuto abbastanza successo ha avuto delle recensioni non entusiastiche però ha avuto abbastanza successo da garantirgli dei sequel allora scusate un attimo adesso io vorrei fermarmi mollare una boa e proviamo un attimo a tornare alla base per vedere se abbiamo più blocchi per costruire la nostra barriera corallina vi dicevo ha avuto diversi sequel uno del 96 quindi l'anno successivo alla sua uscita chiamato memories of summer e uno che è uscito invece nel 99 che si chiama aquanautsoliday 2 che sono usciti per playstation 3 e playstation portable se non vado errato infine poi nel 2008 è uscito addirittura aquanautsoliday hidden memories per la playstation 3 vediamo un attimo se abbiamo nuovi blocchi si un pochino vedete abbiamo un pochino di nuovi blocchi allora proviamo a mettere che ne so vari colori poi uno dovrebbe sperimentare sia nella forma ho finito i blocchi dovrebbe sperimentare un pochino sia nella forma né che perché questo per esempio io lo posso togliere se voglio si ok no adesso non lo posso spostare però si possono mettere anche blocchi ad altezze diverse per esempio sopra qua per esempio voglio mettere questo blocco a questa altezza qua posso creare geometrie strane particolari e alla fine farmi la mia barriera corallina come voglio a secondo di la geometria che ha e dei e dei colori che ha attirerà più o meno pesci sempre in base alla loro in base alla loro come si chiama alla loro razza allora per esempio proviamo a andare qua e dirigiamoci costantemente verso ovest vediamo che succede proviamo a esplorare un pezzo che non abbiamo ancora esplorato allora se questo è nord io così sto andando ok ed è quasi sempre come stava andando perfetto l'altra un'altra tartaruga di mare vedete ci stanno anche le alghe c'è una certa varietà di animali marini diciamo come concetto è interessante voglio dire premio un po' lo sforzo di di cacchio è sto cosa che bestia sei così lo faccio girare che bestia dicevo è interessante il concetto cioè di fare un gioco che questo è un altro delfino che non ha un vero e proprio scopo no semplicemente un passatempo in cui uno quando non ha niente da fare si fa un'esplorazione marina così e va in giro senza senza nessuno scopo solo con l'idea di guardarsi in giro vedere se scopre qualche cosa interessante senza nessuna come dire pressione ecco no voglio salì voglio salì no voglio salì senza nessuna pressione nessuna preoccupazione di di tempo di essere uccisi così in maniera completamente rilassata ok capisco capisco l'idea però ripeto uno sarebbe stato interessante fare un ambiente un po' più vario un po' più stimolante perché se il punto è l'esplorazione io vorrei anche essere in qualche modo premiato nella mia esplorazione vedere che scopro cose non che vado in giro così per ore e ore e ore non vedo niente però è anche vero che facendo il gioco in questa maniera poi alla fine quando veramente è brutto questo alla fine quando scopri qualche cosa ecco lo faccio girare su se stesso oh ci ce ne scorfano quando scopro qualche cosa alla fine è un po' un'emozione ok faccio girare sembrano scorfano probabilmente se fosse stato pieno di oggetti e cose da scoprire sarebbe stato anche un po' più piatto però altre qui ci sta una specie di canale sottomarino ci stanno un sacco di tartarughe marine oh un pesce spada oh c'è pure una manta che faccio far giro vabbè proviamo a andare a parlare con la manta i modelli degli animali sono fatti abbastanza bene ok viene verso di me se far giretto come al solito è ok se è possibile vi volevo far vedere ok questa è un'altra pesce spada se è possibile vi volevo far vedere le balene sono abbastanza carine se riusciamo a trovarle tutto molto casuale non è che uno va in giro e magari è capita di una balena oppure magari se riusciamo a trovare qualche altra cosa strana sul fondo del mare che ne so una un'antica rovina o cose di questo genere boom levate 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 i diversi animali hanno comportamenti diversi chiaramente sembra un demo un gioco un gioco vero e proprio mi pare di aver visto qualcosa che si è affrontare il mare un'altra un'altra manta e levate questi non hanno proprio paura si fanno investire e comunque vi dicevo all'epoca io ci ho giocato se si può parlare di gioco un bel po' o c'è una montagna fermo ho passato un po' di tempo sono andato avanti ho costruito una barriera con la lina piuttosto questi sembrano proprio dei gradini ma non so se è un problema di fermate è un problema di grafica o se veramente so dei gradini sono arrivato troppo in superficie quindi non mi fa andare più in alto che così proviamo a vedere se sul fondo qui sta sgaradinata magari c'è qualcosa ma pare che non c'è sta niente dicevo ci ho passato un bel po' di tempo alla fine avevo costruito una grossa barriera corallina alla fine i pesci erano arrivati tutti però poi alla fine ecco tutto quello che ho ottenuto è stato che potevo trasformarmi in manta e andare in giro a fare esattamente quello che era il calluccio marino mi pare di aver visto un cavalluccio marino eccolo qua così va avanti vabbè non fa niente mi pare pure bidimensionale tra l'altro ma che c'è sul fondo ah una cosa una cocchiglia come si chiama ecco la posso far aprire vabbè e alla fine insomma dicevo avevo completato la barriera corallina avevo fatto venire tutti i pesci ma alla fine insomma non si ottiene niente niente di che e quindi e quindi alla fine ho detto sai che c'è ho riporto al negozio che me l'ha venduto come ho usato e più qualche altra cosa insomma non è non da molti motivi per rigiocarlo ecco può essere interessante così passarci un'oretta e farsi un po' di giri sott'acqua ma poi alla fine probabilmente abbiamo raggiunto i bordi della mappa per questo che ci stanno queste queste grosse queste grosse montagne per impedirci di proseguire ah questo è un marlin avvicinarci al marlin così ho fatto a scappare ok vediamo se riesco a comunicare con il marlin ecco qua ho fatto il gira e credo che sia tutto qua queste che so sono cerni fammi vedere no pesci normali poi stanno sta specie di alghe sul fondo che onestamente non so che cosa siano quindi se uno ecco ci vuole giocare un'oretta giusto per vedere come può essere può essere un passatempo interessante però ecco non lo non lo considererei un gioco è qualcos'altro l'area di gioco è molto grande quindi di cose insomma di spazio da esplorare ce n'è però è tutto piuttosto così vuoto probabilmente come è veramente il fondo del mare qui c'è una fossa andiamo a vedere che c'è qua sotto questo sembra molto profondo vedete quando si vede qualcosa di nuovo sembra emozionante perché effettivamente il resto del gioco non succede granché fatemi vedere che c'è qua intorno chi sei tu pesce palla se gonfi si se gonfia ecco poi non sarebbe male ecco avere la possibilità di accendere delle luci ecco ecco batte andiamo su non sarebbe male avere la possibilità di accendere le luci per poter illuminare meglio l'ambiente circostante perché qui che siamo sul fondo è veramente buio allora andiamo qua su quando si va a sbattere vedete non ci si danneggia semplicemente siano fermati qua naturalmente ci sono delle zone un po' più nascoste e segrete in cui si trovano pesci più particolari tipo le rane pescatrici o cose di questo genere però per il resto come vedete è tutto piuttosto piatto mi sarebbe piaciuto durante questo video avere la fortuna di trovare una una piramide o qualche cosa ci sono anche statue sommesse qualcosa di questo genere però come vedete il la mappa è molto grande quindi non c'è non c'è una mappa in sovraimpressione quindi è tutto molto molto casuale allora però adesso ve lo provo un attimo a tornare alla alla base e vedere se ok e vedere se posso ampliare la barriera corallina se uno lascia due boe una molto molto vicina all'altra chiaramente la boe che si lascia per secondo cancella quella precedente si vedete ho accumulato un po' un po' allora prima ho accumulato un po' di blocchi provo a mettere un po' di roba così a caso perché non ho proprio idea di quale sia il criterio con cui disporre i blocchi probabilmente c'è una strategia ma insomma io ho sempre fatto tutto molto a caso ecco e qui ci fa vedere se lasciamo così si fa vedere un più o meno i pesci dove stanno dove si ammucchiano e quindi possiamo vedere che magari alcuni pesci vanno più intorno ai blocchi blu alcuni vanno intorno ai blocchi rossi cose di questo genere e da questo capire come 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 costruire la nostra barriera ma come vi ho detto non è che c'è molta molta differenza alla fine io l'ho sempre fatto quando l'ho fatto ai tempi l'ho fatto molto casualmente e alla fine i pesci venivano lo stesso facciamo un ultimo un ultimo giretto speriamo a dirigersi adesso verso est vediamo se troviamo qualcosa di interessante che so sento dei boati sembra di sentire dei boati ma adesso non so se il microfono che raccoglie qualche cosa o se c'è veramente qualcosa che sta succedendo nel gioco sento dei boati poi non so se dovrebbe essere una specie di colonna sonora o se c'è qualche cosa che dovrei andare a cercare web c'era qualche cosa da andare a cercare degli oggetti non ho più fagate ci sono dei cosi qui delle colonie di di alghe altri delfini credo che sia un delfino è un delfino o è uno squalo no è uno squalo eccolo ho fatto amicizia con lo squalo no ho fatto scappar via non mi ricordo scodinzola così se ne va proviamo ad andare un altro pochino avanti poi interrompiamo perché insomma come vedete si può andare avanti per ore senza fare in realtà assolutamente niente ecco una balena rallentiamo forse sto troppo lontano però anche qui mi devo avvicinare molto lentamente vedete c'era anche un tonne bisogna avvicinarsi molto lentamente alle balene perché vedete sono estremamente timide e tendono a scappare vabbè chi se ne frega ci vuole troppo tempo per accostarle poi alla fine come avete visto alla fine fanno sempre solo un giretto se troviamo la combinazione giusta niente di che altri pescioloni altri pescioloni un altro squalo un altro squalo un'altra balena e uno squalo vediamo se forse ho sbagliato questa la fa scappare via vabbè comunque le balene sono gli animali più più difficili da insomma con cui interagire ecco mettiamola così altra balena sento degli altri rumori non so se hanno un significato questi rumori ritmici che si sentono alghe pesci insomma avete capito più o meno di che si tratta vabbè ok direi che ci possiamo formare qui allora vediamo un attimo allora io me fermo lascio a boa ritorno alla base ritorno alla base allora se io vado su system e faccio save posso salvare il gioco ok wait a moment please ok salviamo qui e poi gli dico che voglio smettere di giocare perché ricordo che alla fine diceva una cosa abbastanza strana ok io vado system quit e lui mi dice qualcosa tipo ti senti leggero a volte diceva è stato rilassante non è vero no assolutamente a me questo questo tipo di gioco così come dire sottomarino lo trovo lo trovo terribilmente oppressivo un po' come terror of the deep per il commodore 64 ok quindi come vedete non è un gioco vero e proprio è una specie di insomma demo se vogliamo dire della playstation con qualche elemento di esplorazione però insomma è una cosa interessante insomma almeno una volta secondo me bisognerebbe provarlo certo quando si è completata la barriera corallina e se si trova tutti i pesci sostanzialmente non c'è più assolutamente nessun motivo per per rigiocarlo tutto sommato devo dire che è stato abbastanza divertente ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.